Siamo al segno del cancro, per voi questa è una luna che parla di paure, che parla di timori, che parla di insicurezze, è una luna da prendere un po' con le molle, perché voi quando entrate in paranoia, diciamo così, diventate delle persone petulanti, difficili anche da gestire, perché voi avete bisogno di un grande affetto, di continue dimostrazioni d'amore che potrebbero mancare sotto questa luna, voi ne sentite un bisogno interiore, certe volte però non parlate, non vi esprimete, non chiedete e allora capirvi al volo diventa complicato per chiunque e se c'è qualcosa che non funziona nel rapporto di coppia sappiate amici del cancro che molto dipende anche da questa vostra incapacità a comunicare, eppure questo mercurio vi vorrebbe molto più chiacchieruto.